Valentina Peracino, Presidente dell'Associazione Baratucciate e Vitigni Storici, parliamo della Valsusa, la Milano-Torino arriva proprio alle porte della Valsusa, che cosa venite a raccontare oggi del vostro territorio vetivinicolo a questi giornalisti? La Valsusa, ci tengo a dire che quest'anno festeggia i 20 anni della sua doc, quindi siamo arrivati a un traguardo abbastanza interessante. In questo momento nella doc Valsusa, oltre al rosso Valsusa, è presente una vanà, un beque, una barbera e poi il baratucciate. La viticultura della Valsusa è una viticultura eroica, in quanto è una viticultura di alta montagna, sui terrazzamenti, quindi è una viticultura di fatica. Il baratucciate però è un vitigno che ci unisce noi dell'Associazione Tutela Baratucciate alla doc e fa da tramite con la città di Rivoli, perché noi siamo un gruppo di viticoltori della bassavalle, abbiamo in comune tutti questa produzione di baratucciate, poi tutti una produzione di altri vini rossi che sono tipici della zona. Ricordiamo sempre che nel 1266 c'è la prima citazione del nebbiolo proprio nella città di Rivoli. La nostra associazione come scopo ha quello ovviamente di valorizzare questo territorio come la collina rivolese e quindi tutta la morena che da Rivoli ci unisce verso la Val di Susa e uno dei nostri obiettivi è quello di entrare come zona collinare proprio all'interno della doc Val Susa. Quando arrivi in un territorio, una corsa come la Milano-Torino e speriamo prossimamente il Giro d'Italia, c'è un incremento poi l'anno successivo, negli anni successivi del cicloturismo. Ecco, voi intendete poi attrezzarvi per accogliere nelle vostre aziende, senza ubriacarli naturalmente, i cicloturisti, quelli che vengono a scoprire su due ruote il vostro territorio. Ma diciamo che alcune delle nostre aziende della Bassavalle sono già attrezzate perché hanno dei percorsi cicloturistici già segnati come la cicloturistica che unisce il Sangone con la Dora e hanno anche delle proposte interessanti come i picnic in vigna, quindi non è una cosa esclusivamente legata al vino ma anche alla somministrazione di prodotti locali, così come fino ad arrivare a Chiomonte ci sono altre strutture di accoglienza, agriturismi che si sono già dotati della possibilità di dare ospitalità. Grazie.